Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi consiglierò 3 manga da non comprare assolutamente. Perché ragazzi vi sto consigliando 3 manga da non comprare invece di 3 manga da comprare? Molto semplice, perché comprare i manga, alla fine quelli che conoscono tutti, o comunque quelli più famosi, c'è anche a base di tutti, beh, è bello, sappiamo che è bello, lo compriamo, ci divertiamo. Invece riuscire a schivare i proiettili dei manga fatti veramente male, fatti con i piedi, è molto molto difficile. Io ne ho tanti purtroppo che non mi piacciono e non saprei neanche che farne, che li posso buttare via. E quindi sono qui proprio per questo, per consigliarvi 3 manga da non comprare. Però ragazzi mi piacerebbe anche portarvi 3 manga da comprare. Chiaramente non vi dirò i 3 manga più famosi, non vi dirò One Piece, Naruto, Dragon Ball, Fairy Tail, Bleach, no. Non ve li dico, perché sono i più famosi e li conosciamo tutti. Magari vi consiglierò qualche manga più piccolo, che non tutti conoscono. Secondo me è una buona idea, anche magari più vecchi, ditemi voi se vi piace questa idea. Magari rispondete al sondaggio che metterò qua su da qualche parte, non mi ricordo dove, ma lo metterò qua. Il primo manga che non vi consiglio ragazzi è Mob Psycho 100. Questa è anche la Variant Edition. Pensate quante sono stronzo, mi sono preso anche la Variant. Comunque, vi faccio vedere i disegni, ma comunque per chi è in questo mondo sa... Madonna mia, guardate che roba, guardate che roba. Lui è il protagonista. Comunque ragazzi, io ve ne parlo molto tranquillamente. Anche quando l'avevo comprato ho detto, vai, i disegni non sono niente di che, però speriamo che la storia sia bella. Prima di arrivare alla storia ragazzi voglio proprio parlarvi del manga e dei disegni. Allora, i disegni, come vi ho fatto anche vedere in maniera molto veloce, sono fatti col culo. Secondo me si è messo il pennino e ha cominciato a sculettare sopra il foglio e ha fatto i disegni. L'unico modo è questo. Ma uno può dire, vabbè, se la storia è fatta bene, cavolo, i disegni uno ci passa sopra. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. E la storia avrebbe un potenziale molto molto grande. Il problema è che la sta realizzando male. Punto. Quindi questo manga è tutto male. Comunque ragazzi, per chi non conosce One, che è l'autore di questo manga, è l'autore, l'autore, è lo scrittore di One Punch Man. Lui l'ha solamente scritto, poi l'ha disegnato un altro, però lui l'ha solamente scritto. E sappiamo tutti ragazzi il successo che sta avendo One Punch Man. E non è solamente per la storia, ma anche per i disegni. Sono fatti veramente bene. Noi ragazzi ci soffermiamo molto sulla storia, ma chiaramente anche i disegni che sono lì, il contorno, che è una parte molto importante. Però alla fine non è la parte più importante del manga, perché la storia rimane sempre il cuore. Qui ragazzi è fatto male il disegno e la realizzazione della storia. Adesso ragazzi parliamo della trama. Il nostro protagonista si chiama Shigeo Kageyama e ha sviluppato un'abilità particolare, diciamo, riesce a controllare le cose da lontano. Diciamo, ha poteri psichici. Però lui smette di utilizzare questi poteri ragazzi per attenzioni negative degli altri. Praticamente non gli piace agli altri che lui usa questi poteri. E lui praticamente vuole vivere una vita tranquilla senza usare questi poteri. Quindi vuole vivere tranquillamente la sua vita scolastica. Se dovessi dire una parola su questo manga, solo una, direi che è no sense. Non ha senso quello che succede. Ma ok, ce ne sono tanti che non hanno senso e sono così per far ridere. Ma questo è fatto male, o almeno secondo me. Prezzo ragazzi 4,90€, sì, un po' altino, ma sicuramente c'è, perché è la variant. Non so il volume standard quanto può costare, ma costerà poco in meno, magari 30-40 centesimi in meno. L'autore è one e secondo me deve continuare solo a scrivere storie e disegnare, deve far disegnare a qualcun altro. Secondo manga che vi consiglio di non comprare mai in tutta la vostra vita è Jimaru, formato solo da due volumi e brutto. Brutto ragazzi, brutto. Allora, avete presente una storia quando... Adesso vi faccio un esempio stupido. Voi vedete One Piece, vedete Naruto, vedete una puntata di One Piece, ve la guardate, arrivate alla fine che deve succedere qualcosa e la puntata finisce e quindi dovete vedere quella dopo, dopo una settimana. E vi rimane... rimanete un po' così, ma... Quindi? Quindi? Che succede? Devo aspettare, mamma mia. Ecco, qui è uguale. Il problema è che voi non potete aspettare, perché la storia finisce. Finisce così, ma... Quindi? Cioè... Spiegami, perché? Cos'è successo? No. Comunque ragazze, qui sui disegni non ho niente assolutamente da dire. La trama. La protagonista è Kaburaji Haruto ed è una ragazza che vuole disegnare shoujo. È una mangaka che vuole disegnare shoujo. Un giorno arriva un alieno, un robottino che... Adesso, questo qui. Arriva questo robottino qui e gli dice che lei nel futuro diventerà famosissima disegnando hentai. Lei non ci vuole credere, per tutto il manga è così. È una palla. Regà, è una palla. La storia, sinceramente, a parte questo, non me la ricordo. Cioè, mi ricordo che è una palla, perché quello sì. Mi ricordo che il robottino a un certo punto va via, perché... Boh, non si capisce. Torna e poco dopo finisce il manga. L'autrice, ragazzi, è Mizuki Kawashita. Allora, Kawashita ha fatto anche First Love Limited, 100% fragola. Ne ha fatto un altro. Io, a parte 100% fragola, gli altri li ho. E devo dire che anche quelle sarebbero perfette per una puntata di tre manga da non consigliare. Comunque, questo, secondo me, poteva essere un buonissimo manga. Aveva anche qui una bella storia. Ma è stata realizzata molto, molto male. Ultimo manga da non comprare assolutamente. E sto parlando del volume unico di Dog Style. Lo so, lo so, ha un titolo particolare. Però, fidatevi, per essere un ecchi spinto, perché dovrebbe essere un ecchi spinto, fa schifo. Fa schifo, ragazzi, fa veramente schifo. Una bellissima donna cane, ricevuta in regalo per il suo compleanno. Un ragazzo timido che cambia sesso. Un ladro che mette in sumbuglio un antico Edo, lottando contro tutti. 120% di emozioni per questi racconti brevi, firmati dall'autrice di Yoichi Professione Samurai. Ovvero Yu Miyamoto. Minamoto, scusate. Quindi, quella che ha fatto Yoichi Professione Samurai, ha fatto anche questo. Quindi, hai fatto Yoichi? Sì, bello. Io non ho molti volumi, ma mi piace, dovrei continuarlo. Perché poi ti sei lanciata su qualcosa lì? Perché? La trama, ragazzi, che cosa vi devo dire della trama? Non c'è. Non c'è. Non c'è trama, perché sono tutte storie brevi. Troppo brevi. Tu non puoi iniziare a leggere una storia. Dopo cinque pagine arriva un'altra storia. Un'altra storia, un'altra storia, un'altra storia e così via. Non ci capisci niente, perché sono tutte storie che durano al massimo... No, vai. Non è grandissimo. Duraranno dieci pagine ognuna di storia. Cioè, raga, cosa puoi capire una cosa così? Anche se è un ecchi, potreste metterci anche un entai così. Non avrebbe alcun senso. Quindi, ragazzi, di qui non è che vi posso dire molto. Vi posso solamente dire che sono storielline brevi, molto brevi, troppo brevi, e di non comprarlo assolutamente. Anche perché 5,90 euro dalla Goen... Vabbè, sapete, è sempre i 5 centesimi della Goen che li vuole, eh? Perché lei è fissata per questi 5 centesimi. Lasciate perdere, assolutamente. Lasciate perdere. I disegni, ragazzi, manco per lo solito, sì, sono fatti bene. Ci mancherebbe. Sono fatti molto, molto bene. Le forme sono fatte bene, ma chiaramente deve essere un ecchi spinto. Però non ha storia. Cioè, non ha storia. A me, se una storia è fatta bene, secondo me è la cosa principale. A me non ne frega niente dei disegni. Cioè, ci posso passare sopra, come vi ho detto prima anche per Mob Psycho 100. Sì, i disegni facevano schifo, ma se la storia fosse stata sviluppata bene, magari da qualcun altro, l'avrei continuato. Fino ad adesso siamo arrivati al terzo volume. Ma io non ce la faccio, non ce la faccio a leggere una cosa che non ha né capo né coda. Cioè, non ce la faccio. E tutti questi tre manga che vi ho consigliato, ovvero Psycho 100, Gmarue, quest'ultimo Brobrio, non dovete assolutamente comprarli, perché sono veramente schifo e vi occupano spazio in libreria. Fidatevi, vi occupano spazio. Troppo anche. Un'ultima cosa, ragazzi, prima di chiudere il video, queste sono opinioni personali. Non ve la prendete se a me questi manga non piacciono. Punto. E niente, ragazzi, il video ve lo concludo qui. Se vi è piaciuto, lo sapete, un bel pollice in su. Se non vi è piaciuto, chiaramente, pollice in giù. E bella. Ho dato una botta alla videocamera.